Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un momento nella pixel money C'è qualcosa che mi spinge, cosa cavolo sei? Un persian, che carino Ragazzi i persian sono una fonte di money Che ho mandato? Subplay Che faccio contro uno, non mi ricordo che... Finta? Ok sei finta, vai, vai dagli di finta Ragazzi i pokemon persian e meo droppano le nugget di oro Cioè vi rendete conto? Cioè sono money e non pochi Guarda muschiatta sto coso Eh no però Muori Ok persian è schiattato E sublime ha fatto 37 Vediamo se ha droppato qualcosina Manco per i cazzi Non abbiamo droppato niente Che bello Le soddisfazioni della giornata Mamma mia Cominciamo bene oggi ragazzi Ma siamo un persian e non ci droppa niente Dovrebbe droppare da uno a 27 nugget Invece no 27 no Però parecchie Vediamo un po' qui che abbiamo Oh un bel dodrio Poi abbiamo dietro un lachito Che non ci interessa Avevo visto un allenatore se non sbaglio Mi sa che è già sparito È possibile che io veda un allenatore e sparisce subito Nido zitto nidorino Aiuto è una mazza sto babbo Buono Esploso 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 cioè Cancellato dal gioco proprio Cancellato Cancellato Oh Cos'è quello Oh nidorina Nidoran femmine Lol Eh si ragazzi Quello era un nidoran femmina Che figata che diventa nidorina C'è scritto nidoran femmine C'è proprio discriminazione di sesso qui Cioè Te lo fanno notare Quella è una femmina Sta attento che fa schifo Proprio Zero eh Zero 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 Oh Questi sono per Swampert Vieni qui Ma è caduto di sotto L'avete visto? Io lo stavo curando Le prese sparite È caduto di sotto Che babbo di minchia Mori Magmar Non rompe le palle Cioè l'ho missato Anche lui mi ha missato Eh non è morto No Fa quello Basta Vieni Prossimo Next Vieni qui Swampert deve expare Vai Magmar Muori Muddy Waters Al 32 Sì Non serve in casa Al 32 Voglio Quella al 40 Dai su Adesso viene qui Magmar Vieni qui È un ordine Ma chi è che c'ha Magmar nel gruppo nostro Ma siamo lì Sì è vero Sì Molissima c'è Oh al 48 Tanta exp Muddy Waters Ne faccio pure due De Muddy Waters Per questo Ho esploso Lampatoria al 49 Mamma mia che sta succedendo Ragazzi Dead expunge Super fast Ok Qui abbiamo Jolteon Lo mandiamo contro Sofiro Se lo prendo magari Se lo prendo magari Lancio lungo Niente Non l'ho preso Va bene C'è un trapace al 16 Vediamo un po' Se troviamo qualcosa di interessante Mi sembra un allenatore Che livello sei? 8 Livello 8 Preferisco non commentare Guarda Oh di Kangaskhan Vai vai C'è shallow cross Vai metagross Shot arriva Ammi un'arma Esploso Oh Iron defense Mi interessa a me Iron defense Aumenta la difesa Aumenta la difesa Aumenta di due stadi La difesa Cioè a me mi interessa Cioè questo qui Cioè Cioè Psichico Cioè sono tutte mosse forti Ma ormai esci in seguimento Cioè come faccio a togliere qualcosa Secondo voi Che togliereste Il posto mio In seguimento È una bella mossa Non lo so Sto veramente dubbioso Perché alla fine In seguimento Non mi serve a niente Però In tutte le altre mosse C'è un vabbè 10ppi S'abbastanza In seguimento Lo tolgo? Metto Iron defense Così magari Mi tirano contro un pokemon Normale Sono ancora più resistente No vabbè Metteremo una prossima mossa Lì sì 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 Non mi interessa Quando imparerò una nuova mossa Gli metteremo Quello che cazzo è mazzilla Come si chiama Dai capito Che io uso Prova un seguimento Fa male però Devo ammettere che il male lo fa Perché Cioè È sempre un arbo a 35 In teoria c'ha tanti HP Però 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 Non sarà mai come le altre mosse Dai per favore Oh Altro allenatore Dai che questo magari è un livello più decente Oh Due attaccati Oh Un allenatore con la coda da slowpoke Ah Ah Uno slowpoke dietro Ma Ma che cos'è oggi La sagra delle pippe Cazzo Scusate le parolacce ragazzi Ma Per favore Cioè Dai Tutti allenatori livello 8 Io voglio expare Cioè Come faccio così Che livello sei tu 22 Quanto fa schifo Nidorina al 21 Andiamo qui Magari c'è qualche Crabbe e Kingler livello alto 31 e 34 Sì Più o meno Potrei anche due larli Ma saranno due la fra di loro Mannaggia Voltorb Firo Spiro Firo Oh I golding spawnano a gruppi da 4 E si buttano di sotto d'acqua Che figata Slowbro Quella è exp Quella è tanta exp Arrivo 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 C'è anche Kingler C'è tutto Ecco c'è lo stronzalotto 32 Discharge Bam Bam E super effective Quello che livello è 16 Schifo 41 Tuono Esploso Ma da una jolt E un'attacca sempre per primo Ragazzi È troppo bello Firo Firo al volo No Prendilo No Ok Uh Quello quanto è grosso Sta già duellando Ti pareva Ciao MyRip Ciao Lactobuds Ti mando Swampert Vuoi morire da un Pokemon Terra? Tieni Tutto per te Mad Bomb Dai muori 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 Sploso Sploso Letta buzz fainted Troppo qualcosa No Bambè Eh ragazzi Questa sezione Che cacchio di lingua Sto parlando Dico Questa Questo expaggio Non finirà mai ragazzi Perché 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 Voglio stare in pianura Voglio che mi spawno Il leggendario qui C'ho le ultra bull apposta Ce ne ho 31 Con 31 lo prendo sicuro Quindi io continuerò a saltellare Come un idiota Dentro a questa pianura Finchè non mi spawno Il leggendario Arbo Che cazzo Che Che vuoi? Da dove sei uscito? Che Oh no Oggi me le levano proprio Cioè io Scusate So così volgare Ma Oggi ne ho proprio giornata Muori Ah Schiattato? Bravo Ah è morto Sablei Ah Ok Fai Fai veramente schifo Sablei Cioè ragazzi Fa schifo Fine Un po' come Cioè schifo Schifo Vabbè Vedremo i livelli più alti Ok Questo cos'è? Un arbo Swampert Facciamo un bel Takedown Eh Ni Ni È un po' ni Mood bomb Eh Super effective Arbo che debole a terra No ragazzi Io non ci capisco niente Qui poco Ma perché Arbo Scusami eh Eccans è qua Fermo Eccans Fermo Niente proprio Cioè veleno e debole a terra Oh Oh Mood bomb Super efficace Cioè Eccans e Arbo che debole a terra Perché che tipo so veleno? Che so loro? Boh Non lo so Solo che qui c'è un magnet Che sta per morire Ok Fermo 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 L'ho duellato perché voglio l'acciaio Semplicemente ragazzi Eccolo lì Quello volevo Terremato 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 Ok 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 Raggiungiamo Raggiungiamo Ho pistola Col takedown Takedown Fa 90 85 Moody Water Fa 95 85 Terremato Fa 100 100 Takedown Si 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 Magrimite Vieni qui Mamma mia Tutta sta Altro ferro Si si Oh ma sarei Magrimite Porta ferro Cioè quanto l'ho preso Fino adesso? 3 Buono Ok vediamo se trovo altri Magrimite Magrimite Mi chiamo Magrimite Non mi interessa Lo so che è Magrimite Però mi piace di più Magrimite Non so perché Tipo Tipo Ehm Non lo so Mi ispira a cattiveria Capito? Magrimite Sembra un Gnie 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 Però è un pianto Pare Invece Magrimite È più cattivo E qui c'è un Criogono al 22 Oh Piloswain è spawnato Che livello è? 3 Aspettavo di meglio Vai Lampadario Mazza sto Piloswain Vai Over it Esploso Esploso Piloswain Esploso 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 Mamma mia che male Oh oh Un firo incastrato Un firo incastrato Vai Jolton Ora che è incastrato Tuono Bam Firo al 20 Che si prende un tuono Nella faccia Poverino Piccolo Quindi Arbok Arbok è debole A terra Vai Mood Bomb No che figata Cioè se ho imparato Debole se Oh Lampadario al 50 Ragazzi Sta per arrivare I livelli in cui Deve imparare mosse Fra poco imparerà Nuove mosse Al 53 mi pare Al 61 Adesso non mi ricordo Esattamente quando impara Però fra un po' Imparerà Sicuramente al 51 Al 53 Impara qualcosa Quindi deve Livellare ancora un po' Allenatore 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Che cos'è Livello 11 Si livello 11 Grande allenatore Inutile Spacco tutto Spacco Ok si sta facendo notte Ragazzi vedremo un po' Di pokemon notturni In pianura Shins al 9 Entonish Parto Vediamo un po' Lì abbiamo degli Arbok Raior Raior in pianura Ok Poi abbiamo un Arbok Lì che è interessante Quello lo vado ad uccidere Poi abbiamo un altro Arbok Lì Che che è l'invasione Un altro Arbok qui Che cavolo è l'invasione Degli Arbok Al 40 Tanta exp per me Grazie Eh mille exp Not bad Ok Oh allenatore Io ci spero sempre Di trovare un allenatore A livello sufficiente Per combattere ragazzi Perché sono tutti Livello basso Livello 8 Si Si livello 8 Donna io mi ricordo Quando c'avevo il pokemon a 10 Che trovo solo allenatore A 67 E non potevo fare un cavolo E invece adesso Tutti gli allenatori all'8 Oh sei Hacking Che livello sei Vai Jolta Scelgo te Tuono Sempre tuono Ormai La mossa base Lancio Jolta un tuono Jolta un tuono Jolta un tuono Adesso discerdo Dai per cambiare Ok Oh troppo troppesce Corp Dav'è il pesce Carp del cazzo Niente Ok ho preso Oh allenatore O Pikachu O Glowstone Al 49 Questo è ancora più alto Di quello dell'altra volta Ragazzi al 49 L'ho preso al 41 Io quanto l'ho preso Se sopravvivi di cattura Te lo dico Eh no È esploso Poverino Eh no No Ma se tipo Vado a prendere Pikachu Vabbè C'ho Jolta Poi Jolta Si offende No Non mi pare caso No 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 Assolutamente Grande Tu sei il più forte De tutti A livello 5 Complimenti Notare che Quello era l'8 Questo che lì lo è 9 E questo è il 5 No no I più forti del server Eeeh Aspetta Io ricordo che Salamela Mi aveva imparato qualcosa Cosa No C'era un pokemon Che aveva imparato qualcosa Che cavolo era Vabbè Andiamocelo Devo shottare Snorlax Amerarm Morto No Non ho capito Seguimento Snorlax è morto Mentre il padone mele 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 Niente Niente mele Oh che c'è qua sopra Oh c'è la ticket Che fai di bello qua sopra Mi duella Che ti pareva Eeeh Blegh 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 Oh Oh l'ho esploso Critical hit Nice Oh Qua c'è qui Magikarp Tanto schifo Se non sbaglio di notte in pianura ragazzi La popolazione diminuisce Avete notato? Cioè di giorno è molto molto più attivo I pokemon notturni in pianura Sono veramente pochi Cioè rimangono giusti Vedi Gli Snorlax Vescono i palloncini Nivello 23 I palloncini del cavolo Sono guardabili Vedi un altro palloncino lì Un allenatore lì E il cibo che finisce Patate Patate Cioè patate Patate nel senso Mangiamo una patate Che avete capito Che avete capito Doppi sensi Mamma mia Basta Cioè non era a doppio senso Cioè era proprio banale Cioè solo io penso Dove l'ho pensato a doppio senso Su quella cosa Però a dettagli Quando uno è matto È matto E vediamo un po' Qua se trovo qualcosa Dai su Venite fuori Pezzi di pokemon Eh Allenatore 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 Veni qui Che livello sei? Che livello sei? Che livello sei? En 23 Oh mio dio Te sei proprio sprecato Eh ma proprio Te sei Te sei sprecato Eh al 23 Mamma mia Non sarà troppo figo Cioè un po' di fammelo trovare Tipo al 35 Un po' qualche livello in più Non tanto c'è La flareon Ma vaffan flareon Piede nuove ritte pure Dei wheezing Esplodi di quello che non sei Hanno ucciso veramente? Esplodono veramente? Lul Anthony Che mi fa? Speriamo che non mi fa a terremoto Esplodo Ruggito Mi usa Ma vedi a nata Muori Con confighi Facciamo un altro overritte Nella faccia Martò E Gru Light E andiamo di nuovo di Anthony Guarda Ragazzi Lo vedete Certo Basta Muori Martò Oh 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 Quanti ce n'hai io? E questo è sopravvissuto Questo è grosso Questo è grosso Bracere Ah perché mi sta calando L'attacco speciale È vero Nice 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 E l'attacco speciale Mi cala ogni volta che uso overritte Quindi devo ritirare il pokemon Perché così si ristabiliva Eh pazienza Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nel Prossimo video della Pixelmon Dove continueremo a expare Come stronzi Voglio liberare Tutti i pokemon a 60 Voglio E ovviamente Experò in pianura Certo potrei expare in montagna Che ci sono pokemon Leggermente più pericolosi Ma non mi interessa ragazzi Preferisco la pianura Questo lo ammazzo Lampadario Vieni qua Questo era tipo acciaio Se non sbaglio Cioè se io vi faccio un overritte Implode praticamente E rimane un HP Ma è ovvio che rimane un HP Non è tipo acciaio comunque Ok Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Ciao a tutti E al prossimo video